11 ottobre 2008, il comune di Agropoli si dota di un nuovo impianto sportivo, il campo da calcio Gianfranco Polito. Insieme al Guerigli e al Torre, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, doveva essere un impianto fondamentale di aggregazione e di socializzazione per tantissimi giovani, oltre che per le numerose scuole calcio che richiedono impianti adeguati, moderni e sicuri. Eppure dal 2008 ad oggi tanto è cambiato. Sempre meno società infatti hanno chiesto di giocare sul campo in terra abbattuta di località mattine, preferendo beneficiare del Guariglia in erba naturale o del Vicino Torre in sintetico. Così il Polito, piano piano, ha iniziato ad essere sempre meno sfruttato. Abbandonato dalle squadre dilettantistiche, hanno iniziato a giocarci quelle giovanili, ma col passare del tempo anche queste sono venute meno. Così l'amministrazione comunale pensò anche di affidarlo in gestione ai privati. Il risultato in ogni caso oggi è che il campo Polito si trova in uno stato di degrado. Il cancello d'ingresso è aperto, alcuni vetri degli spogliatoi rotti, così come le panchine. Sul terreno di gioco è cresciuta l'erba e sono presenti rifiuti ed escrementi. L'impianto insomma richiede un importante intervento di messa in sicurezza e restyling, che da malazzo di città hanno già assicurato. Sarebbe però anche opportuno pensare a come utilizzarlo per evitare che resti in disuso. Il fatto che sia l'unico in terra abbattuta non ne facilita l'utilizzo. A ciò si aggiunga l'assenza di una tribuna e di una recinzione che non facilita la visione delle gare. Eppure il Comune di Agropoli investì 300.000 euro per la sua realizzazione.